E continuiamo il nostro cammino di riflessione sulla carità attraverso storie e non principi. I principi sono pure interessanti, la teoria è interessante, ma ciò che ci deve spingere, come stiamo facendo in questo tempo, è la realtà, i fatti, la storia. Abbiamo iniziato grazie alla testimonianza di Fra Emiliano Antenucci, qualcuno mi ha chiesto ancora il titolo, il titolo del libro è Gli ultimi saranno i primi, lo trovate in libreria, lo trovate su internet, lo trovate da tante altre parti. Ci siamo soffermati, siamo entrati nelle celle delle carceri, abbiamo riflettuto su storie di persone detenute e abbiamo scoperto che dietro ogni grata, dietro ogni cella c'è un'anima, c'è una persona, c'è una vita. Ci sono mani tese verso di noi, mani tese verso l'alto. Da oggi faremo qualche piccola capatina in un altro mondo della povertà di oggi, la povertà delle tossicodipendenze. Prima si diceva la dipendenza dalla droga, oppure la persona che faceva uso la si chiamava tossicodipendente. Ebbene, diversi anni fa le droghe erano poche, oggi ci sono tante droghe, tante dipendenze. E la dipendenza non sempre è dovuta a una sostanza, come può essere l'eroina, come può essere la cocaina, come può essere l'ascis, ma vi è una dipendenza per esempio dai giochi. Quanta gente oggi, e ahimè adulti, e ahimè pensionati, escono dalla posta o dalla banga e vanno subito a giocarsi i loro soldi. Vi sono dipendenze da internet, vi sono tante dipendenze. E vorremmo entrare in questo mondo, sempre molto in punta di piedi, con una frase appunto di Fra Emiliano Antenucci, il quale dice l'unica dipendenza che non crea dipendenza, ma che ti libera da tutte le dipendenze, è Gesù. Ecco perché è il titolo di questa rubrica, Gesù è la mia droga. Gesù non crea dipendenza, Gesù libera, Gesù si inserisce nel tuo cammino, Gesù ti rende uomo, ti rende donna, Gesù ti completa, perché a differenza di chi vende dipendenza, di chi lega a sé, l'amore di Gesù è un amore perfetto, è un amore vero, è un amore che ci libera. Allora Gesù è la mia droga. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti!